SIGLA Stanco? Ma che stanco? Io prima delle quattro non capirò mai, Gioia! Pari o dispari? No, fatto io, perché ho la palla. Vi volevo informare che è appena entrata a far parte della nostra squadra, Nick. Fa dei video orrendi che mette in rete, però, ha più di due milioni di like. E torniamo tra poco con Nick e il grande nonno DJ. È mai rotto il cazzo. Un vettino, sai? Tiero, lo sai che questa pervertita si accoppia con mio figlio che ha soltanto 19 anni? In effetti 19 sono pochi, eh. Ma manco pochissimi! Che ne dici se noi stasera ci mettiamo lì e facciamo la pasta fatta in casa? Guarda che quella è una leggenda metropolitana, amore. Nessuno fa la pasta fatta in casa. Stavo vedendo di nascosto con un'altra donna. Ma sei pazzo? Quanti anni hai? 48. Cioè, tu tradisci quel gran pezzo di gnocca di marica con sta bidella? Andiamo? Oggi è la finale del torneo di Paddle. Si ricordi che non è più un ragazzo? Ma mica sono un vecchio, però! Guarda che nella vecchiaia ci sono anche un sacco di lati positivi. Ad esempio? Ad esempio non sei morto giovane. Oddio. Ti amo. In che senso? Si tratta di Luca. È successo che si è messo con una. Che ha questa? Si droga, beve malata. C'ha 48 anni. 48 anni? Pure lui? Ma che è in epidemia, eh? Se io dico Commodore 64, lei capisce immediatamente cosa voglio dire. Ma perché è anziana, mica perché è colta.